...che la sua direzione sia, come già in passato, all'altezza della situazione. Il Milan presenta Pivatelli alla destra. Sani. Tiro ribattuto da... 0 a 0. Sani. Il colpo di testa di Eusebio. Maldini. Sani. ...d'allontanarsi. Il tiro finale... ...il passaggio di Pivatelli a Trapattoni. A Sani. Benitez. Sani. Rivera. Che soffia. Sbaglio. Sani. Pivatelli. Sani. Rivera. Hanno rallentato il ritmo i nostri. Rivera. Sani. Moes. Poi il terzino. David. Sani. Rivera. Sani. si rinserano le file. Sani. Rivera. Discende Sani. Altafini. Sani. Moes. Recupero di Sani. Trapattoni. Buon servizio di Altafini. Assani. Rivera. Che si rin... Sani. Riprendono a manovrare in finezza. Della palla Rivera. Altafini. Sani. Lancia. Pivatelli. Destro. E poi ancora Santana. Tre di Sani. Rivera.